È morto all'età di 82 anni colui che fu il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Neil Armstrong, l'astronauta americano, è morto il 25 agosto scorso a seguito di complicazioni successive ad un intervento al cuore subito ad inizio mese. Armstrong aprì una nuova pagina della storia dell'essere umano il 20 luglio del 1969, quando, toccando il suolo lunare, pronunciò la frase That is one small step for man, one giant leap for mankind, che tradotta letteralmente significa questo è un piccolo passo per l'uomo, un salto gigante per l'umanità. Con i compagni di avventura Michael Collins e Bud Saltlin, Armstrong partì da Cape Canaveral il 16 luglio 1969 con la navetta Apollo 11 agganciata al razzo Saturno 5. Il 19 luglio Apollo 11 entrò nell'orbita lunare ed il giorno dopo, mentre Collins restava a bordo del modulo Columbia, Armstrong e Arlene si avviarono verso il suolo lunare a bordo di Eagle, il modulo lunare. L'atterraggio nel mare della tranquillità fu perfetto. Armstrong indossò la sua tuta spaziale e mise piede sulla Luna. Arlene lo seguì dopo pochi minuti e rimasero per due ore e mezzo fuori dalla navetta. Il tempo necessario per raccogliere 22 kg di rocce lunare è consegnarsi alla storia. Allora, guardate un po' di griglia.